Sembra difficile da credere e invece è successo davvero, il Milan perde punti clamorosi, lascia punti clamorosi a Cremona, scivola a meno 8 dal Napoli, a questo punto le chance di lottare per lo scuretto davvero si assottigliano sempre di più. Una partita assurda che il Milan nel primo tempo avrebbe potuto sbloccare in più occasioni ma non lo ha fatto e quindi merito alla Cremonese che riesce a strappare con le unghie e con i denti un punto prezioso e tante colpe ai rossoneri sia ai giocatori sia a Stefano Pioli perché certe scelte sono veramente incomprensibili soprattutto quando mancavano prima di oggi due giornate prima del mondiale, prima della lunga pausa del mondiale e Pioli sceglie incomprensibilmente di fare un turnover massiccio. Turnover che peraltro era già dettato dalle squalifiche di Teo Hernandez e di Giroud quindi con l'inserimento di giocatori come Ballotouret e Orighi letteralmente disastrosi soprattutto Orighi pensare che il Milan gli dà uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione in questo momento resta veramente una cosa incomprensibile per quanto riguarda il giocatore belga che finora ha segnato un solo gol contro il Monza e non ha praticamente mai convinto. Quindi Pioli mette il carico da 90 e sperimenta Ciao che fa una discreta partita quello va detto la difesa oggi ha tenuto non che avesse un attacco particolarmente proficuo quello della Cremonese da fronteggiare però la difesa oggi se non altro ha tenuto male invece l'attacco anzi disastroso l'attacco a partire da Brahim Diaz che qualcosina fa ma non può bastare. Rebic quando entra con il piede sbagliato in campo poi sappiamo che tipo di partita gioca quindi è un 4 assoluto anche per Rebic di origine abbiamo già detto ma anche quando entra Leao non si accende la scintilla per non parlare di Descartes. Per quanto riguarda Pioli è un 5 oggi bisogna però formulare giudizi abbastanza netti arrivati a questo punto dopo 14 giornate sul mercato estivo del Milan che fino a questo momento è letteralmente disastroso. Non c'è un giocatore che si salvi dal mercato estivo e poi bisogna anche parlare del turnover di Pioli ogni volta che Pioli lo ha fatto il Milan non ha risposto nella maniera corretta e quindi anche questo è un tema su cui riflettere su cui lavorare. Il campionato ora è davvero un obiettivo che sembra lontanissimo 8 i punti di distacco dal Napoli la Champions League bisognerà giocarsela con il Tottenham ma non sarà facile e a questo punto la Coppa Italia può essere davvero l'obiettivo primario in questa fase della stagione e fa un certo effetto dirlo perché il Milan non è certo abituato a lottare solo per la Coppa Italia a differenza magari di altri club. Comunque tra poco ne parliamo qui a Calcissimo naturalmente vi aspettiamo a 23.30 come sempre su Top Calcio a tra poco.